Buonasera a tutti, questo è il quarto appuntamento del secondo ciclo organizzato assieme all'Università di Udine, ringrazio la dottoressa Missana che ha seguito questi primi eventi e si chiudono con l'arrivo dell'estate, ne parlavamo prima quando si è deciso il programma di questi eventi e i contenuti degli stessi erano circa otto mesi fa, nove mesi fa e quindi non avevamo fatto una previsione di quello che sarebbe successo a breve periodo ovviamente, però tutte le tematiche erano ovviamente di interesse comune, abbiamo parlato di cyber security, abbiamo parlato di salute, abbiamo parlato nell'ultima occasione delle ciclovie, tutti i temi di forte attualità nel nostro territorio e oggi andiamo a parlare di ciclo idrico integrato in un momento nel quale i media stanno parlando invece di emergenza idrica, quindi cade anche in maniera tempestiva questo incontro che è rivolto veramente a tutti per avere la consapevolezza di quella che è l'attuale situazione del nostro territorio inteso sia comunità del gemonese o tra l'altro abbiamo una riserva idrica importante ma poi ci saranno ottorevoli esponenti che ci spiegheranno quanto è importante questa riserva e quanto dobbiamo saper conservarla e quindi abbiamo deciso assieme alla comunità di montagna del gemonese ringrazio il presidente Marangoni assieme a tutti i sindaci ed amministratori qui presenti per aver voluto organizzare questo evento in questa sala. Ringrazio ovviamente l'università di Udine qui rappresentata dal professor Varelli, ringrazio CAF qui rappresentata dal direttore Battistone, il consorzio di bonifica con l'ingegnere Fico e il professor Goi che ci illustrerà, che tra l'altro è un nostro concittadino e quindi gioca in casa, ci illustrerà quello che sta accadendo. In sala c'è anche il professor Simeoni che è coinvolto in un progetto che è risultato beneficiario di un contributo della regione del Frivenza Giulia assegnato alla comunità di montagna del gemonese e ad altri comuni del Frivenza Giulia. Quale esperienza pilota proprio per cercare di conservare l'acqua nel nostro territorio ed eventualmente se poi vuole in qualche minuto precisare quello che stiamo andando a fare ed anche questo va nella direzione di capire che la risorsa idrica non è infinita. Questo veniva definito anni fa il pisciatoio d'Italia, dico anni fa perché anche io mi ricordo che quando ero un po' più bambino, sebbene non abbia i capelli bianchi, avevo anche pochi capelli, ma comunque avendo trascorso un po' di tempo mi ricordo che nell'infanzia qui pioveva veramente molto di più rispetto ad un tempo. Poi ci sono dei dati che magari ci dicono che nell'arco dell'anno piove comunque non con la stessa frequenza ma con un'intensità importante, però dobbiamo capire che ci sono anche delle scelte che dovremmo andare a fare anche in ordine degli investimenti. Stiamo reiterando delle scelte da anni su dei progetti che ci sono anche che riguardano ovviamente l'irrigazione per quanto riguarda la produzione agricola. Continuiamo a rimandare delle scelte che ovviamente oggi scontiamo e paghiamo. Quindi quello che era un tema che credo fino a 15-20 anni fa non era noto nessuno e forse non ci toccava neanche direttamente ma vedevamo che in altre regioni d'Italia e mi riferisco al sud Italia c'era un condigentamento già dell'acqua, probabilmente già oggi interessa anche noi e se non saremo capaci di cambiare anche le nostre abitudini e anche in maniera significativa forse ce ne accorgeremo ben presto con delle azioni molto più determinate. Io qui mi fermo, ringrazio ovviamente tutti voi e lascio la parola a chi ovviamente avrà molte cose da raccontarci ringraziando veramente l'università di nuovo per quanto abbiamo fatto fino a oggi e per i futuri appuntamenti. Prego lascio a lei la parola, grazie. Grazie a tutti, io sono Alessandro Trovarelli e sono delegato del rettore alla ricerca dell'Università di Udine. Innanzitutto volevo ringraziare tutti voi per la vostra presenza, molto gradita qui in questa bella città di Gemona e volevo portare i saluti del magnifico rettore, i saluti dell'Università tutta a questa assemblea. Questo incontro si inserisce in una serie di incontri che l'Università di Udine sta organizzando e ha organizzato dall'anno scorso a quest'anno su temi importanti inseriti nell'agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Come ricordava il sindaco poco fa, sono temi che riguardano l'energia, sono temi che riguardano il benessere, quindi mi pare si sia parlato anche di invecchiamento attivo, si è parlato di turismo sostenibile, si è parlato di economia circolare, quindi di recupero e riutilizzo dei rifiuti, si è parlato di sicurezza informatica. Diciamo che in tutti questi temi c'è una certa preveggenza visto il momento in cui stiamo vivendo. Innanzitutto lasciatemi anche ringraziare sia i comuni che hanno dato la disponibilità e che hanno collaborato con l'Università per fare questi eventi, in particolare nei mesi scorsi gli eventi li abbiamo fatti nel Comune di San Daniele, alcuni altri già nel Comune di Gemona, nel Comune di Udine, ci sarà un prossimo mi dicono nel Comune di Artegna. Quindi grazie a tutte le comunità per questa ospitalità. Ringrazio anche la Fondazione Friuli che è quella che in qualche modo contribuisce alla riuscita anche di questi eventi e ringrazio la dottoressa Misana e l'area di ricerca dell'Università di Udine per l'organizzazione degli eventi e per aver scelto poi in base anche al coordinamento con i sindaci questi temi. Oggi si parla di acqua, anche qui sono stati abbastanza preveggenti. Facevo prima una riflessione con alcuni colleghi che diciamo nella mia vita non ho mai percepito la fragilità del nostro sistema globale come in questi ultimi anni dall'avvio della pandemia. Naturalmente questa si è inasprita negli ultimi mesi con la guerra, la fragilità energetica che il nostro Paese sta vivendo, non solo il nostro Paese, l'Europa intera, la fragilità dei sistemi di approvvigionamento delle materie prime, in particolare del cibo. Ce ne stiamo accorgendo. Diciamo che da quando è arrivata la pandemia io percepisco una grande fragilità del nostro sistema. I cambiamenti climatici, un altro grande problema che dovremo affrontare nel futuro è che in qualche modo è connesso all'argomento di cui ci si occupa oggi, che è l'argomento che riguarda l'acqua. Riguarda in realtà il ciclo idrico integrato, che è una parola magari un po' più complessa, ma che sta semplicemente a identificare tutta quelle serie di azioni che vengono fatte da quando l'acqua viene prelevata dall'ambiente, viene trattata, viene utilizzata, quando l'acqua viene restituita all'ambiente in modo tale che non generi inquinamento. L'acqua rientra nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite come obiettivo mi pare il numero 6. Acqua pulita, sistemi igienici sanitari efficienti, acqua in qualche modo sostenibile. Cosa vuol dire acqua sostenibile? Vuol dire che io devo utilizzare l'acqua per soddisfare i miei fabbisogni senza però compromettere i fabbisogni di chi viene dopo di me. E per fare questo credo che il ciclo integrato che si possa agire in modo sia tecnico che politico e amministrativo su quello che è il ciclo integrato dell'acqua. E quindi oggi la sostenibilità diciamo della risorsa acqua passa anche attraverso un'utilizzazione efficiente, efficace del ciclo idrico integrato. E quindi oggi abbiamo qui tre esperti che ci parleranno del ciclo idrico integrato che sono, che ringrazio ovviamente per la disponibilità, che sono il professor Goi, che come diceva prima il sindaco rientra nella sua città natale, che è professore di ingegneria sanitaria ambientale, quindi si occupa di processi e di trattamento dell'acqua essenzialmente, quindi dalla fonte fino alla restituzione all'ambiente. L'ingegner Battiston che è il direttore generale di CAF, che è il consorzio che gestisce il ciclo idrico integrato per mi pare una 120 comuni, 121 comuni, e l'ingegner Barbara Fico che è del consorzio bonifica pianura friulana. Bene, io direi che non voglio portare via altro tempo, quindi ringrazio di nuovo tutti per la presenza e penso di dover dare la parola al professor Goi. Oggi sono particolarmente emozionato a presentare un argomento che è l'argomento principale del mio lavoro come professore universitario via a Udine e che stiamo sviluppando molto bene con tante realtà territoriali. Puoi essere nella mia cittadina a parlarvi di questo, spero in una maniera più chiara possibile, è una particolare emozione. Vi ringrazio tutti e mi scuso se appunto la mia emozione tradirà qualche volta o qualche passaggio. Allora, quando la dottoressa Missana mi ha chiesto se potevamo fare un intervento, ti ringrazio tantissimo Alessandra, io ho detto ma parliamo di ciclo idrico integrato o parliamo di servizio o parliamo di qualcos'altro? Allora, no no no, parliamo di ciclo idrico integrato. Allora, so benissimo, ormai per un po' di esperienza sull'argomento che mi tocca passare attraverso, sarò un po' io noioso all'inizio, ma insomma sopportai tutti che dopo vedi che magari viene fuori qualcosa di interessante. Devo dare delle definizioni perché non sempre siamo sicuri di quello che pensiamo del ciclo idrico integrato. Prima appunto delle definizioni, poi passeremo dagli argomenti importanti e cercherò di introdurre un po' di tradizione del ciclo idrico integrato e di quella che è l'innovazione, nuovi concetti, nuovi paradigmi che abbiamo davanti nei prossimi anni riguardo a questo che intendiamo come ciclo idrico integrato e poi magari parliamo anche del futuro del ciclo idrico integrato. Allora, definizione. Qui ci sono tre parole associate a ciclo. Vedete, ciclo naturale dell'acqua, ciclo idrico integrato e ciclo integrale dell'acqua. Queste sono cose in qualche modo distinte o distinguibili. Dunque, partiamo dal ciclo naturale dell'acqua. Allora, il ciclo naturale dell'acqua cos'è? È rappresentato da questa slide, lo trovate in Wikipedia, cioè questi ragazzi con cui ci confrontiamo conoscono essenzialmente come ciclo idrologico, come ciclo naturale questa diapositiva, una diapositiva che viene dagli Stati Uniti ed è abbastanza chiara. Insomma, il ciclo naturale dell'acqua vuol dire il ciclo che l'acqua fa dalla posizione dell'acqua in superficie fino all'evaporazione, poi la condensazione delle nuvi, la precipitazione e poi il riscellamento, l'intrusione all'interno della terra, diciamo così, oppure ancora una volta la deposizione in laghi o mare. Ecco, e il ciclo è proprio partire dal corpo idrico superficiale e tornare nel corpo idrico superficiale. Questo è un ciclo che di fatto è animato e ha come motore il sole. E fino a quando ci sarà il sole, stimato ancora qualche anno, qualche miliardo di anni, questo ciclo avrà continuamente vita, diciamo. Per questo si dice che questo qui è un ciclo che è infinitamente rinnovabile. Perché? Perché si stima che la distanza in tempo di miliardi di anni sia poco confrontabile con la distanza in tempo che intendiamo noi di vita sulla terra, diciamo. Il miliardo d'anni non è il centineo d'anni o il migliaio o il milione, diciamo. Siamo proprio lontani come tempo, il che vuol dire che fino a quando ci sarà il sole questa cosa qua funzionerà, andrà avanti. Non si sa come, ma in qualche modo si rinnoverà. Qui infinitamente rinnovabile. Allora si può dire che questo ciclo è infinitamente rinnovabile. altra cosa invece è dire, parlare del ciclo idrico integrato. Cos'è il ciclo idrico integrato? L'agente ha detto Trovarelli in maniera molto sciolta e esatta. Cioè è quel ciclo, ancora una volta il ciclo, si parte da un luogo e si torna nello stesso luogo. Il ciclo che collega il prelievo dell'acqua dall'ambiente, ne fa un eventuale trattamento, lo distribuisce, dunque viene distribuita l'acqua, viene consumata, scaricata, depurata e poi rimessa in qualche modo nell'ambiente, dal quale riparte il ciclo. Dunque eccolo qua il ciclo. Questo è il ciclo idrico integrato, di cui noi adesso parliamo nel dettaglio. Allora, l'idea è intanto di distinguere i due cicli. C'è un ciclo naturale, ciclo idrologico, e un ciclo idrico integrato. Sono due cose che, diciamo, le possiamo quantomeno teoricamente all'inizio così, in prima approssimazione, distinguere. Recentemente, molto recentemente, si sta parlando del 2018, c'è stato un approfondimento su queste tematiche che ha portato a una discussione che era arrivata a un disegno di legge, vicino al disegno di legge, un paio di disegni di legge, che introducevano un'ulteriore parola vicino al ciclo che riguardava l'acqua, cioè il ciclo integrale delle acque. Dunque, confusione, poi magari. Ciclo idrologico, ciclo idrico integrato e ciclo integrale. Cos'era, cos'è questo ciclo integrale dell'acqua? In buona sostanza è il ciclo idrico integrato inserito all'interno del ciclo idrologico. Cioè, parlare di ciclo integrale dell'acqua vuol dire parlare dell'acqua, dell'acqua del ciclo idrico integrato inserito all'interno del ciclo idrologico. Cosa che, insomma, dal punto di vista del concetto è innovativa, abbastanza innovativa. E cosa vuol dire? Vuol dire che ci dobbiamo occupare sì dell'acqua del nostro ciclo idrico integrato, cioè quella che in effetti poi paghiamo come servizio idrico integrato, ma dobbiamo anche occuparci di questa acqua inserita all'interno dell'effettivo ciclo idrologico. Ora, queste sono cose nuove che in qualche modo hanno sconvolto un po' la discussione scientifica, se vogliamo, in merito al ciclo integrato. Che però, dal punto di vista della definizione, rimane questo che abbiamo visto. Cioè, questo. Si parla di ciclo idrico integrato indicando questo che abbiamo adesso appena dentro dopo. Chi ha inventato il ciclo idrico integrato? Io chiedo agli studenti quando vengono a lezione, secondo voi avete intuito cos'è anche perché ve lo insegnano già dall'elementare, scuole medie, eccetera, ma da dove parte questa idea. E soprattutto, il servizio invece idrico integrato, chi l'ha inventato? Come è collegato al ciclo idrico integrato? Ecco, queste sono le domande che, diciamo, sono interessanti dal punto di vista della scienza e tecnologia che noi approfondiamo anche a livello delle nostre studi università. Beh, guardate, il ciclo idrico integrato è quello che, se abbiamo detto, si occupa della nostra acqua potabile che viene prelevata e poi usata e rimessa, eccetera. Ecco, di questa cosa, in effetti, si parla da migliaia di anni. Già in civiltà minoica c'erano delle, diciamo, organizzazioni di questo ciclo idrico integrato, che si chiamava ovviamente così, ma della prelievo e protezione dell'acqua fino alla distribuzione c'era già una avvisaglia. E qui dovete immaginare i 2.000 anni prima, 2.000, 3.000 anni prima. Dopodiché, negli ultimi 1.500 anni si sono sviluppate in maniera sistematica tecnologie e scienze che riguardano nello specifico il ciclo idrico integrato. Allora, diciamo, questo è un elenco di tutto quello che è successo e che ha portato appunto lo sviluppo degli studi del ciclo idrico integrato fino al 2.000. Ultimamente, negli ultimi 20 anni, noi abbiamo un'esplosione di ricerca, di articoli di ricerca e di attività connesse, applicate al ciclo idrico integrato. Se andate su internet e scrivete ciclo idrico integrato, viene fuori, questa è solo una parte, viene fuori varie, diciamo, rappresentazioni che sempre indicano il ciclo come l'abbiamo così introdotto noi brevemente, ma in maniera molto diversa. La cosa che più è interessante, diciamo, dal punto di vista della conoscenza generale è che si confonde spesso ciclo idrico integrato con servizio idrico integrato. E qui non ci siamo, nel senso che il ciclo idrico integrato è quello che abbiamo detto. Il servizio idrico integrato è l'amministrazione del ciclo idrico integrato. E questa è una distinzione fondamentale che, ovviamente, anche a livello legislativo, diciamo, deve essere ulteriormente, diciamo, approfondita. Quella legge là si stava provando e con quella parola integrale dove metteva delle definizioni. Adesso per il momento è tutto fermo, ma spero che la cosa adesso si sia riproposta, insomma, almeno come discussione. Allora, questo, il fatto che possiamo distinguere ciclo idrico integrato e servizio idrico integrato e che il ciclo idrico integrato va inserito all'interno del ciclo idrologico, sono idee abbastanza nuove. Possono essere detenute banali, ma dal punto di vista degli studi sono abbastanza nuove. Queste sono dovute alla tradizione e all'innovazione di ciclo idrico integrato che sono legate alle esperienze sul territorio. I territori hanno manifestato, per almeno negli ultimi 20-25 anni, grandi esigenze di sviluppo su queste tematiche. Ovviamente questo si è riversato nelle attività dei ricercatori e delle amministrazioni, e siamo arrivati a quello che abbiamo introdotto, insomma, questo nuovo paradigma che vuol dire ciclo idrico integrato, sì, definito ciclo integrato, all'interno, dunque un ciclo interno, all'interno, disposto, diciamo, sul ciclo idrologico. Questa sembra una banalità, ma questa è effettivamente una novità e si collega molto anche alle questioni dei problemi che abbiamo adesso. Il ciclo idrico integrato come ciclo interno, come può essere distinto dal ciclo idrologico? È distinto perché il ciclo idrico integrato è un ciclo legato alla qualità dell'acqua, più che alla quantità d'acqua. abbiamo detto che fino a quando c'è il sole, più o meno la quantità d'acqua sarà così rigirata nel ciclo naturale dell'acqua. Il ciclo idrico integrato, invece, è un ciclo dove noi chiudiamo lo stesso, cioè chiudiamo il ciclo, quando abbiamo restituito alla natura la stessa qualità dell'acqua che abbiamo prelevato. Allora bisogna parlare di qualità dell'acqua, piuttosto che di quantità. E questa è una responsabilità, diciamo, diretta del essere umano che si è inventato questo qua. Già nei millenni abbiamo detto, noi, che va via via sviluppando questo concetto. Allora, se il ciclo idrico integrato è questo, noi lo immaginiamo sempre a cinque unità. Prelievo, distribuzione, consumo, depurazione, reimmissione. Lo trovate anche a sei? Cosa manca qua, eventualmente? Cosa manca? La depurazione è laggiù. La D è la depurazione, ma cosa manca qua per fare sei? Dove mettereste un'altra unità? Un trattamento dove? Al secondo posto. Cioè l'acqua la prelevo, la tratto per poterla distribuire e dopo la uso eccetera. Attenzione, noi siamo in un paradiso d'acqua. Ve lo dirà, ve lo può garantire l'ingegnere Battistone. Non so quanto trattiamo l'acqua a noi. Ok? Pochissimo. Forse la trattiamo in funzione della distribuzione, perché la rete di distribuzione ha 50, 60, 70 anni, per cui può avere problemi. Ma questo concetto di trattamento per noi, noi fortunati, non è, diciamo, molto conosciuto. Io ho contratto, quando ero negli Stati Uniti, colleghi dell'Arabia Saudita e loro bevevano l'acqua dai dissalatori. Cioè loro tiravano sull'acqua del mare, l'acqua del mare non è bevibile, giusto? Non è distribuibile immediatamente. Allora facevano un trattamento di insalazione pesante con tutti i problemi e poi partiva il ciclo. Allora, attenzione, si può pensare al trattamento, certo, e si può pensare al ciclo idrico integrato a 6. Noi lo pensiamo a 5 perché qui vogliamo evidenziare un aspetto che è dire che comunque nel nostro ciclo idrico integrato, vedete, in ingresso da tutte le unità e in uscita ci sono delle freccette rosse. Quelle freccette rosse vuol dire che rilasciamo inquinamento da lì. C'è poco da fare. Ok? Allora, dunque, oltre che procedere in questo senso ed arrivare a prelevare, consumare e depurare qua l'acqua, comunque in questa fase noi rilasciamo inquinamento, noi lasciamo per strada quella che noi definiamo, dall'università, la tossicità residuale. Ok? Perché questo è è il ciclo di responsabilità dell'essere umano, non è il ciclo idrologico, è il ciclo interno, sul quale dobbiamo pensare al fatto che sia sostenibile o meno. Meglio, quanto è sostenibile sta cosa? Se facendo tutte le procedure per prelevare e eventualmente trattare di distribuire l'acqua, consumarla e poi rilasciarla, io faccio tanto inquinamento in queste procedure, evidentemente mi crea un problema ulteriore e devo parlare di sostenibilità, concetto di sostenibilità. Questa è una slide in inglese che ho usato, appunto lo usavo quando erano gli Stati Uniti, questo qui è sempre lui, ciclo idrologico e degradato, dove c'era, dovevamo descrivere dei piani di riuso dell'acqua che in qualche modo facevano chiudere, vedete questa cosa verde, che il verde è il, diciamo, la positività che possiamo ricavare da queste nostre azioni, mentre il rosso è sempre l'inquinamento residuale che io ho su questo ciclo idrologico e degradato. Ok? Allora, ecco, qui si ipotizzava che attraverso riuso in qualche modo si poteva rendere più sostenibile il ciclo unico integrato. E ci sono casi in cui l'acqua che esce dall'imperato di depurazione va sul fiume e il fiume è, diciamo, il luogo dove poi si svolgono attività e addirittura il fiume è l'unico posto dove possiamo prelevare l'acqua per poterla potabilizzare e rimettere nel ciclo. Dunque, attenzione, ci sono varie tipologie di ciclo idrologico e integrato e sono caratteristiche dei territori. Noi siamo fortunati, noi siamo fortunati. Dicevamo prima, tutto il discorso del ciclo idrologico integrato e della protezione e della sostenibilità del ciclo idrologico integrato è legata anche disposizioni ormai conosciute e, ripeto, anche dispositivi di legge tentati a migliorare questi aspetti di sostenibilità che noi studiamo e che poi effettivamente riusciamo anche ad applicare nelle nostre realtà territoriali. Nell'agenda 2030 non c'è solo il goal 6, ma ci sono vari altri goals a cui associamo il ciclo idrologico integrato, soprattutto quelle legate alle infrastrutture, per esempio, l'energia. Ecco, il ciclo idrologico integrato e il servizio che lo amministra sono realtà, diciamo, definite e interessanti per la popolazione, per il territorio, che rientrano in molti dei goals dell'agenda 2030. Il problema è essenzialmente questo. Cosa dice il goal 6? Dobbiamo, qui c'è scritto proteggere l'acqua per salvare il pianeta. Proteggere l'acqua per salvare il pianeta. Questo è l'obiettivo. Da chi dobbiamo proteggere l'acqua? L'acqua va protetta, io qui mi chiedo se prima di tutto è da proteggere dall'essere umano che non riesce, in buona sostanza, a fare delle azioni che possano ridurre quelle tossicità residuali quegli inquinamenti che possono compromettere la risorsa in se stessa. Dunque, il problema del ciclo idrico integrato è qualitativo legato all'inquinamento, più che alla quantità. per cui la gestione sostenibile è una gestione in cui noi possiamo pensare di, diciamo, agire in modo completo, cioè quali quantitativo, per mantenere la nostra acqua come riscorsa, la disponibilità dell'acqua come risorsa. L'acqua di cui l'essere umano ha responsabilità, cioè l'acqua del ciclo idrico integrato di cui stiamo parlando. Dunque, questo è legato allo sviluppo territoriale, allo sviluppo economico, allo sviluppo sociale e ambientale. La protezione dell'acqua, proteggere l'acqua vuol dire proteggere il pianeta. Qual è lo stato, concludendo, degli studi, se volete, della ricerca che è collegata a queste definizioni e questa idea del ciclo idrico integrato? Guardate, qui ci sono molte discipline che si occupano nel dettaglio del ciclo idrico integrato. La mia disciplina ha anche altre discipline. Il tutto è collegato ultimamente appunto al goal sale, cioè a rendere acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Dunque, vedete, acqua pulita e servizi igienico-sanitari vuol dire legata alla sanità, alla salute, all'inquinamento dell'acqua. Le prospettive che ci sono è, diciamo, una sempre maggiore attenzione a questi concetti e in particolare alla capacità di chiudere il ciclo. Si stanno già imponendo delle teorie che vogliono indicare il ciclo idrico integrato nella sua fattispecie di, diciamo, possibilità di chiusura. Cioè, un ciclo idrico integrato che non riesce a chiudersi è un ciclo idrico integrato che ha necessità di essere ulteriormente, diciamo, studiato e approfondito. Questo è quello che, insomma, mi sento di dire in questa introduzione. Cosa facciamo a Udine? Beh, qui a Udine noi siamo abbastanza fortunati, abbiamo un progetto che dura più di 25 anni e dove, diciamo, con tutti i gestori, prima della zona e poi di tutta la regione, abbiamo fatto varie attività, tra cui un master di secondo livello che ci è stato riconosciuto a livello nazionale. Qui c'è il G.L. Battiston che ha partecipato anche come docente. Insomma, è stata un'idea molto interessante occuparsi del ciclo idrico integrato nelle sue massime, diciamo, massime, come dire, possibilità di approfondimento. Ecco, ecco, e abbiamo anche in attività una convenzione quadro con tutti i gestori dell'acqua del Friuli Venezia Giulia, dove facciamo anche progettualità di vario tipo, però in particolare, insomma, io sono contento di aver, insomma, dato inizio a un progetto che si chiama Comunicare Acqua. Vedete, qui c'è scritto Comuni, Comuni nel senso di Comuni, volevamo proprio il territorio, no? Care, in inglese, ci viene ogni tanto di parlare in inglese, occupatevi, no? Occupatevi dell'acqua. Potevamo scrivere H, Acqua, abbiamo scritto H2O, per tenere conto che la cosa più importante del ciclo idrico integrato è l'aspetto qualitativo. Di questo gruppo fanno parte molte persone, insomma, che sono attive sul territorio, quindi vedo qui Sandro e Marco, che sono stati tra i primi, insomma, i fondatori del gruppo Comunicare. Ecco, qui noi mettiamo tutta la nostra diffusione anche dei nostri progetti e cerchiamo di far capire, insomma, questi nuovi concetti, questi nuovi paradigmi che verranno fuori e che è giusto che cominciamo a gestire in maniera, diciamo, consistente. Ecco, questa è l'ultima slide, nel senso che a marzo 2020 abbiamo attivato un gruppo di lavoro specifico, insomma, con un comitato tecnico scientifico su queste cose, sul ciclo idrico integrato. Noi partecipano tutti i gestori, vedete, tutti i gestori della regione e con i quali speriamo di fare un passo, sempre passo in avanti, insomma, abbiamo tantissime progettualità e un po', diciamo, sotto il cappello dell'AUSIR, che sapete che appunto è l'autorità per i servizi idrici e rifiuti. Ecco, io altro non ho da aggiungere se non di ringraziarvi per l'attenzione. Buonasera a tutti, grazie e ringrazio ovviamente il Comune di Gemona, l'Università degli Studi di Udine e la Comunità di Montagna del Gemonese per questo graditissimo invito. Dopo questa interessante escursus sulla parte teorica che ha fatto il professor Goi, noi entriamo un po' più nel merito, iniziando da raccontandovi brevemente, ho messo il cronometro, non vi rubo più di 25 minuti. Chi è Kafka? Kafka è una società storica, ha 90 anni di storia, nasce nel 1931, un gruppo di 14 comuni del Medio Friuli decide di consorziarsi perché c'era un problema di approvvigionamento idrico, perché il Medio Friuli, basta scendere un po' rispetto a Gemona, ha grossi problemi di approvvigionamento d'acqua. Oggi chi siamo? All'epoca gestivamo solo l'acquedotto, 90 anni fa gestiamo tutto il servizio idrico integrato, che abbiamo capito cos'è, sono l'insieme dei tre segmenti acquedotto, fognatura e depurazione, in 121 comuni su 134 della provincia di Udine. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale, questa è una cosa importantissima, opera su un mercato regolato, perché di fatto noi siamo monopolisti, su questo territorio lavoriamo solo noi, e quindi è necessario che ci sia un'autorità di regolazione che ci controlla, il servizio idrico integrato ne prevede addirittura due, una locale che è Ausir, citata poco fa dal professor Goi, e una nazionale, che è l'autorità nazionale per l'energia e rete e ambiente, denominata in acronimo ARERA. Un flash per farvi capire però chi è Kafka. Kafka è una società di proprietà dei comuni, i soci sono 124, 122 comuni, due comunità di montagna, una è quella del gemonese, e possono essere, questo è un passaggio molto importante, possono essere soci di Kafka solo esclusivamente enti locali, quindi di fatto noi siamo una public company, è il socio più grande, pensate, che il comune di Udine ha il 3,32% delle azioni della società, quindi di fatto questa è la società veramente di proprietà di tutti gli enti locali, che per governarla devono trovare dei consensi ampi, e quindi non c'è un socio che sia determinante nelle decisioni di questa società. Il modello di gestione, anche questo è interessantissimo, perché il modello di gestione è quello che si chiama in gergo tecnico in house providing, quindi è una società che opera solo ed esclusivamente sul territorio dei comuni soci, quindi noi ad esempio non possiamo andare a gestire il servizio idrico a Pordenone, dobbiamo stare a casa nostra, per questo si chiama in house, deve sviluppare la società, la parte preponderante del suo volume d'affari sul servizio idrico, quindi noi non possiamo avere attività collaterali rispetto al servizio idrico se non marginali, vedete, almeno l'80% dei ricavi deve essere fatto dalla gestione delle caratteristiche del servizio idrico integrato. E gli enti locali, questo è un passaggio importantissimo, e questo gli amministratori che sono in sala lo sanno molto bene, è che gli enti locali esercitano sulla società un controllo analogo a quello che esercitano sui propri uffici, quindi di fatto le società in house hanno un consiglio di amministrazione che sostanzialmente è in qualche modo controllato in maniera molto molto stretta dalla parte del controllo analogo esercitato dai soci, che sono i sindaci dei comuni soci. Ecco il territorio servito, questa la riconoscete, questa è la regione, la provincia di Udine, vedete, la provincia di Udine oggi ci sono due gestori, quello azzurro siamo noi, quello giallo è Acquedotto Poiana, con il quale stiamo, diciamo così, percorrendo un percorso di avvicinamento per cercare di arrivare a un'unitarietà della gestione nel servizio idrico integrato. Ovviamente prevengo la domanda, il puntino rosso che sembra Asterix, contornato dai galli, scusate dai romani che avevano conquistato la Gallia, Asterix è il comune di Cercivento che ancora oggi sta pensando se deve darci il servizio idrico integrato o vuole continuare a mantenerlo, diciamo così, in economia all'interno del proprio comune. Due grandezze caratteristiche per farvi capire la dimensione della nostra società, allora i comuni serviti in realtà sono 121 e non 122 perché Cercivento sta pensando, guardate la superficie del nostro territorio, 4.500 km2, la regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia ne ha 9.000, metà. La popolazione dell'area servita sono 472.000, 473.000 abitanti, tre numeri veramente interessantissimi. Il servizio a quedotto ce l'hanno in 423.000, quindi ci sono 50.000 persone che non hanno servizio a quedotto, tutta la bassa friulana, non c'è la quedotto nei comuni della bassa friulana. Il servizio di fognatura sono 400.000 persone e il servizio di depurazione 361.000 persone, quindi già da qua si capisce che proprio un mondo ideale non è il nostro, perché vedete quante persone non hanno un efficace sistema di depurazione dell'acqua per chiudere quel ciclo che prima il professor Goi ci ha spiegato. Le utenze sono 207.000 e questo è una delle cose più difficili per Kafka, perché è il modello Friuli, un'abitazione, un'utenza. Pensate che la città di Milano, gestita da una società che si chiama Metropolitana Milanese, ha 55.000 utenti, perché un condominio di Milano vale un comune del Friuli. E quindi pensate, per Metropolitana Milanese un comune del Friuli è un utente, mentre noi ne abbiamo tantissimi. Il volume d'affari, vedete, di Kafka è di circa 65 milioni, circa i dipendenti, lì c'è scritto 252, in realtà fluttuano, perché abbiamo un turnover piuttosto elevato, il target è tra 255 e 260. È una signora società, anche in Friuli. Questo vi dà un po' la dimensione della parte aquedottistica, vedete quelle macchie, sembrano quelle righe in verde, sono tutte le interconnessioni di una rete aquedotto molto connessa, i triangolini in rosso che partono dalla zona di Gemona, se vi riconoscete dove siete, ma dopo chiaramente si riconosce, sono i pozzi della parte di pianura, non sono tantissimi, vedete, mentre le palline su tutta l'area montana sono le sorgenti montane che alimentano degli aquedotti rurali. Schemi aquedotto, vedete, ci sono 24 schemi che hanno più di 5.000 abitanti. Considerate che per il Ministero della Salute gli schemi aquedotti importanti sono quelli sopra i 5.000 abitanti, ma sopra i 5.000 abitanti c'è anche la città di Udine che ne ha 100.000. perché, ho detto il Ministero della Salute, perché dovete pensare che l'aquedotto è il primo presidio contro le epidemie, tanto che noi siamo controllati dalla sanità pubblica e non dal servizio ambientale, mentre i servizi di fognatura e depurazione sono controllati dalle autorità ambientali, la regione, l'ARPA, la provincia non c'è più. Al volo, perché prima il professore ha fatto una slide, ha detto che questi sono i gestori con cui l'Università collabora, eccoli qua, sono sette, vedete, a Trieste c'è a Cegas, a PS Amgalen, sul carso triestino un microoperatore che si chiama aquedotto del carso, Kraski Vodovod, se vi piace di più il sloveno, il Risacqua che opera su tutta la provincia di Gorizia, la provincia di Udine l'abbiamo appena detto noi e l'aquedotto Poiano, la provincia di Pordenone, due operatori, uno tra l'altro, l'Ivenza Tagliamento Acqua, che opera anche nella parte del Veneto orientale, e Idrogea, che è la società che fa capo, diciamo, alla città di Pordenone. Guardate la provincia di Pordenone, avete notato che non c'è la continuità territoriale tra i gestori? E questo uno dovrebbe dire che poi si è ottimizzato il servizio. Come è cresciuto CAF? Allora, CAF dal 1931 è cresciuto per aggregazioni successive, un grande gruppo di aggregazioni è stato subito dopo il terremoto, 1980 e gli anni successivi, poi a un certo momento dal 2000 si è trasformato in una società per azioni, si doveva arrivare al servizio idrico integrato, quindi fognatura e depurazione, cosa che è concretamente iniziata dal 2004. Nel 2006 ci fu il transito del servizio della città di Gemona, a CAF, primo gennaio del 2006, prima il servizio qui in città era gestito dal comune in economia. Poi su questa onda, adesso meriterebbe un'altra conferenza, del servizio idrico integrato, dell'ambito territoriale ottimale, dell'unicità della gestione, eccetera, abbiamo iniziato a integrare altre realtà e quindi nel 2010 abbiamo incorporato una società che si chiamava all'epoca Consorzio Depurazione Laguna, nel 2013, inizio 2014, abbiamo incorporato una società che si chiamava Friuli Energie, che si occupava di energie rinnovabili, poi una grossa operazione che ci ha portato a gestire il servizio idrico in città Udine, e poi nel 2017 abbiamo incorporato la società che gestiva tutta la montagna friulana, che si chiamava Carniacque, e poi per non farci mancare niente nel 2020 anche Sapada, perché hanno avuto questa bella pensata di transitare un comune da una regione all'altra, e quindi noi abbiamo dovuto arrivare anche a Sapada, che non è proprio una passeggiata di salute da Udine, quindi abbiamo dovuto ristrutturare un'intera organizzazione per arrivare fino a Sapada. Che cos'è il servizio idrico e entregato? Ormai vado velocissimo, perché poi l'ha spiegato prima il professore, ma è l'unione di questi tre segmenti che ci consentono di chiudere il ciclo, e quindi l'acquedotto, captazione, potabilizzazione, era la famosa casellina che mancava nella spiegazione del professor Goi, potabilizzazione che in Friuli non è molto spinta, ma in alcune zone del Friuli sì, noi abbiamo anche sistemi di potabilizzazione, ma non serve andare molto lontano, perché in Veneto invece abbiamo sistemi di potabilizzazione molto spinti, perché sono costretti in alcune aree del Veneto a prelevare acqua di fiume. Tutti i giornali nazionali vi stanno raccontando che il problema del Polesine oggi è la salinità dell'acqua, perché potabilizzano dal Po. La città di Venezia è una quota parda e potabilizza dal Sile, il Sile però ha passato Treviso dove ha preso tutte le fognature di Treviso, quindi non è proprio una passeggiata la potabilizzazione, quella casellina che mancava può essere una casellina importantissima nel ciclo edico integrato. Adduzione, quindi trasporto a lunga distanza, noi abbiamo condotte che fanno anche 40 chilometri. Dall'opera di presa qui vicino di Artegna arriviamo nel medio Friuli e anche più in giù fino a sud di Udine. Da Codroipo dove abbiamo l'opera di presa che alimenta l'Ignano Sabiadoro arriviamo con le condotte all'Ignano Sabiadoro, sono 40 chilometri. E poi la distribuzione che significa arrivare fino alle singole abitazioni. La fognatura è il sistema al contrario, dall'acqua usata delle case o delle attività produttive la collettiamo verso i punti di depurazione e il depuratore invece è il trattamento processistico che ci consente di rendere compatibile l'acqua usata poi trattata di nuovo per la rimissione nell'ambiente. Non ci sto tanto sopra perché è stato spiegato prima. A dire la verità ho detto, meno male, avevo una slide esattamente identica a quella del professor Goi che l'ho tolta. Vedete, sono l'interconnessione, come l'ha spiegato molto appena prima, del ciclo idrico naturale con il servizio, vedete quella pallina che corre, del servizio idrico integrato che ormai abbiamo capito che cos'è. E qui lo vediamo anche in un'altra forma, sempre questo, vedete questo grande circolo, captazione e prelievo, potabilizzazione, distribuzione, la fognatura e la depurazione e in mezzo ci siamo noi che dobbiamo controllare, monitorare e fare anche. Perché poi, ecco, tutta questa cosa significa un grande lavoro, un grande lavoro qui dietro per rendere compatibile questa attività con un servizio che noi eroghiamo a tutte le abitazioni del nostro territorio. Ma insomma, adesso però qualche domanda ce la dobbiamo porre, perché fa un caldo bestiale. Non piove da tutto il 2022 di fatto. Dopo la dottoressa, l'ingegner Fico ci dirà qualcosa di più sulla pioce. Dove sta l'Italia? Ma questa è un po' datata ormai, no? Siamo al 52esimo posto del mondo per vulnerabilità idrica. Tutto sommato nessuno ci aveva neanche mai pensato. Prima salutando alcuni amici ho detto forse bisognerà cominciare a fare delle conferenze come si fanno in posti tropicali di come si usa l'acqua. Avete visto cosa sta succedendo? Usi civili dell'acqua. Questa è una slide che anche questa qualche anno non siamo molto migliorati. Vedete, non ce la passiamo proprio bene. In Italia si usa tanta acqua. Si usa tanta acqua più di altri paesi e dobbiamo cominciare a usarne di meno. Dobbiamo imparare a razionalizzare il nostro utilizzo dell'acqua. Chi siamo noi e cosa facciamo? Perché vedete, la reputazione del servizio idrico integrato è piuttosto bassa. Io ne sono molto consapevole. Però, quali sono i tre indicatori fondamentali per misurarci? Sono le interruzioni del servizio e almeno questo al nord stiamo molto bene. L'interruzione del servizio è un indicatore generale quante volte ti manca il servizio idrico a casa in un anno. Bene, è una curva molto bassa. Considerate che CAF, sostanzialmente, le interruzioni sono molto molto meno dell'1% del tempo complessivo che noi dell'arco dell'anno. Sono praticamente... la continuità del servizio c'è sempre e questo accade in quasi tutte le aree del nord. Cominciamo a preoccuparci però. Noi cominciamo a preoccuparci perché con una siccità come quella di quest'anno forse la interruzione del servizio da qualche parte dovremmo pianificarla. La copertura della depurazione avete visto siamo a livello nazionale al 70%. Avete visto i numeri prima di CAF che rispecchiamo esattamente la media nazionale e non è un bel segnale. Significa che c'è molto lavoro ancora da fare. Le perdite idriche, guardate, il paradosso sembra che man mano che passa il tempo sono sempre più alte. In realtà, che cosa sta accadendo? Che man mano che passa il tempo la tecnologia aumenta e misuriamo sempre meglio. Quindi noi stiamo notando adesso siamo arrivati a questi valori questo valore del 2012 perché ho lasciato il 2012? Perché da lì poi è partita la regolazione nazionale tutti i target per arrivare sulle perdite idriche iniziamo adesso a vedere lentamente la stabilizzazione e l'abbassamento. È un lavoro improbo. CAF ha 5.000 km di retta acquedotto 3.600 km di retta accognatura 500 depuratori. Capite che solo pensarci quando ne hai pensato a uno hai bruciato già una giornata ne hai 220 nell'anno per lavorare quindi se devi pensare alla depurazione ci vengono due anni per pensare a tutti i depuratori solo pensare a una giornata. Questa è un po' volevo darvi però chi la cosa è la copotabile rappresenta l'essenza della civilizzazione il professore ha detto della civiltà micenea io non mi sono così allargato però insomma la civiltà romana ha fondato la sua forza proprio nella gestione di due infrastrutture fondamentali che erano l'acquedotto e la fognatura e quindi il water 1.0 perché parliamo in maniera moderna era la creazione di sistemi acquedottistici e fonari su larga scala e poi siamo arrivati però già in epoca molto moderna trattamento dell'acqua potabile per prevenire la diffusione di malattie trasmissibili con l'acqua questo è un passaggio molto importante perché pensate che noi che siamo impegnati in un grande progetto che si chiama piani di sicurezza dell'acqua questa nuova frontiera guidata dell'Istituto Superiore di Sanità la garanzia di avere su tutta la filiera del processo idrico quindi della captazione alla distribuzione l'acqua garantita potabile è sostanzialmente uno dei un presidio fondamentale contro le epidemie e poi water 3.0 qui siamo arrivati sostanzialmente agli ultimi veramente 60-70 anni che abbiamo cominciato con il trattamento dei liquami e siamo arrivati ai depuratori moderni dove c'è moltissima tecnologia eccetera e ormai siamo impegnati a prevenire tutta questa nuova sfida che sono gli fenomeni climatici estremi di siccità e piovosità perché abbiamo il rovescio della medaglia in questo momento non piove e abbiamo grandi problemi di siccità sapete qual è la domanda che ci facciamo noi ogni giorno nella struttura tecnica di CAF quando ci arriverà la botta dell'alluvione perché arriva subito dopo vi ricordate l'estate del 2003 una siccità simile a questa un po' meno ahimè fine agosto del 2003 in Valcanale è successo il finimondo 5-6 anni 7 di lavori per rimettere a posto quelli danni creati da un alluvione pazzesca quindi dobbiamo aspettarceli ottobre del 2018 la tempesta vaia stiamo ancora lavorando per sistemare i danni all'infrastruttura e al servizio idrico dovuti a quel fenomeno che era legato al cambiamento climatico 20-200 all'ora nella cortina delle Alpi non si erano mai visti eccole qua i romani ci hanno lasciato delle cose molto belle due foto solo per dirvi ci sono in questo momento degli acquedotti che sono centenari o millenari ancora in funzione sono foto che ho fatto io in Siria ancora usano la Noria almeno mille anni sollevano con questo sistema non è molto efficiente per un occidentale non ha un rendimento molto alto si direbbe in ingegneria però sollevano l'acqua la portano su quell'altezza su quella struttura che è un acquedotto tipo quello dei romani e poi la distribuiscono piano piano in città e poi invece qui siamo in Oman un ripartitore che è esattamente fatto come quelli dei nostri acquedotti solo che è a cielo aperto e ha qualche centinaio di anni vado un po' a stringere perché siamo a Gemona fuori ho detto qualcosa di Gemona forse vi interessa com'è lo schema idrico di Gemona lo schema idrico di Gemona è basato fondamentalmente in questo momento da un approvvigionamento da pozzi che sono ubicati nella parte bassa di Gemona la conoscete perfettamente un campo pozzi a Vegli e un campo pozzi a Godo entrambi pompa in un grande serbatoio a Chiampon e poi da lì si risale pompando ahimè tutto il conoide sul cui è ubicata la città e Godo invece pompa in rete c'è un'integrazione della sorgente Glemine che dà un apporto significativo ma non determinante un grande progetto che adesso noi abbiamo è quello di ristrutturare e riattivare le prese che stanno su a Sella Sant'Agnese e quindi rialimentare quota parte dell'acquedotto della città di Gemona dall'alto si parla tanto di PNRR si parla tanto di PNRR ho detto mi chiederanno qualcosa sul PNRR bene sul PNRR c'è un bando attivo in questo momento si è chiuso noi abbiamo presentato un progetto abbiamo presentato un progetto pensate unico per tutta la regione Fluminense Giulia tutti i sette gestori un progetto che vale 47 milioni di cui 37 milioni chiesti sui fondi PNRR c'è dentro Gemona e quindi adesso siamo molto confidenti che il ministero di infrastrutture e mobilità sostenibili ci dia questi soldi ma sostanzialmente attenzione non è un progetto il PNRR non finanzia infrastrutture fisiche ma finanzia una parte importantissima che è la transizione digitale nella gestione di tutto questo complesso di infrastrutturale perché voi avete capito che noi abbiamo una rete un numero di impianti un numero di pompaggi sterminato dobbiamo avere un'accelerazione sul digitale fondamentale per fare che cosa per poter avere modellizzazioni distrittualizzazioni tutte quelle tecnologie che ci consentono di capire in via predittiva dove ci sono le perdite e arrivare molto prima a determinare e a riparare oppure decidere con sistemi di intelligenza artificiale quali sono le tratte migliori da riparare perché oggi bisogna dirlo con franchezza noi oggi sostituiamo le reti dell'acquedotto della fognatura in funzione di che cosa è quello dell'acquedotto proprio quando capiamo che non ce n'è più per nessuno cioè è talmente disastrosa il servizio che la sostituiamo però molte volte se abbessimo la possibilità di fare dei calcoli matematici e delle simulazioni molto più spinte probabilmente cambiando ancora qualche pezzo di acquedotto in più migliorerebbe molto il servizio oppure potremmo capire dove sono le tratte che hanno diametri insufficienti così come le fognature si possono prevenire gli allagamenti eccetera quindi siamo molto confidenti su questo progetto vado veloce perché mi manca un minuto e mezzo tema di questi giorni sistema di telecontrollo di Kafka noi da Udine vediamo tutti i nostri impianti Gemona è stata dal 2006 che noi la vediamo da Udine quello che succede qui in città questo è l'andamento della falda a Vegli campo pozzi principale di Gemona guardate la curva in rosso sono gli stessi giorni di giugno dello scorso anno del 21 la curva in blu è quella di quest'anno quei gradini che vedete quella specie di gradini vuol dire che è partita la pompa quando parte la pompa la falda si abbassa perché noi pompiamo beh insomma vedete ai primi di maggio erano lo stesso punto e dopo e dopo qui è continuata a scendere nel 22 sta continuando a scendere vedete noi speriamo adesso che abbia una specie di asintoto perché se no siamo nei pasticci mentre l'anno scorso era molto più alta ma molto più alta stiamo parlando di metri due parole al volo sugli impianti di depurazione questa spero si riesca a intuire è un'area vasta quella azzurra è l'area di Gemona che è conferente all'impianto di Via Chianeit l'area in gialla è Magnaglia quel piccolo impianto di depurazione abbiamo Artegna abbiamo un pezzo di buia e arriviamo a Magnano in Riviera perché ho messo questa sostanzialmente oggi l'impianto di depurazione a Gemona sono due ma abbiamo un grosso problema Gemona la parte ovest della città non ha ancora la fognatura fa parte di quel grafico di prima di quella tabella di prima diciamo che nel punto di vista strategico però l'idea che noi abbiamo è quella di accorpare queste aree colorate in un unico impianto di depurazione centralizzato in zona Magnano in Riviera lo stiamo già progettando non è una cosa guardo il sindaco di domani ma è una cosa molto presto arriverà perché non sono tantissimi i chilometri i chilometri di collettore fognario per portare le acque nere di Gemona attenzione le acque nere e quindi noi oggi cosa dobbiamo fare ci sono due problematiche fondamentali qui a Gemona per quanto riguarda la fognatura e la depurazione le acque parassite abbiamo tantissime acque di falda che entrano in fognatura ci stiamo lavorando molto abbiamo delle progettualità che sono praticamente avviate e che si concretizzeranno sul territorio ne parlavo prima con il sindaco proprio stiamo parlando a giorni e poi c'è la mancanza della fognatura nella zona ovest e quindi noi gli obiettivi sono appunto quelli di estendere la fognatura di dare un servizio anche a chi oggi non ce l'ha e poi di chiudere questi depuratori nell'area nell'area di gemona perché comunque l'area di gemona è un'area di ricarica di una falda importantissima due parole velocissime perché vi chiederete che acqua bevete bene l'acqua di gemona è buona almeno questo voglio tranquillizzare tutti guardate qui abbiamo messo in maniera molto didascalica alcuni parametri poi le slide le lascio al comune quindi sono a disposizione di tutti quelli che sono questa sera non è che ci sono segreti industriali qui dietro a gemona non abbiamo mai avuto in tutti questi anni una volta che avessimo avuto una non conformità sia a vegli che a che a a godo e chiudo ve lo devo dire oggi mi ha chiamato anche la RAI dice che azioni forti dovrete fare il presidente Federico ha fatto una ordinanza hanno detto che usciva mentre stavo venendo qua quindi non l'ho vista ancora ma cerchiamo di usare il buon senso dobbiamo razionalizzare l'utilizzo dell'acqua quindi cercate di usare il buon senso se non serve il rubinetto te lo chiuso non serve far scorrere tanta acqua se non serve i rubinetti difettosi sistemateli o fateli sistemare le lavatrici lavastoviglie fatele lavorare a pieno carico ormai questa l'abbiamo imparato tutti meglio farsi la doccia io ho capito anche a me piace la macchina pulita però sapete che lavare la macchina a casa consuma tantissima acqua se è possibile riciclare l'acqua ma forse ne parlerà dopo un altro relatore e sull'irrigazione lascio poi all'ingegnere Fico che ci parlerà a lei vi ringrazio molto per l'attenzione grazie mi presento sono Barbara Fico del consorzio di bonifica basso piano frulana mi occupo in realtà di dati faccio parte dell'unità operativa sistemi informativi territoriali e oggi sono al posto dell'ingegnere Bongiovanni che purtroppo è dovuto andare a Roma proprio grazie al PNRR e quindi ha lasciato a me l'onore di essere qui stasera e di presentarvi un po' quella che è la situazione dei cambiamenti climatici in atto e come diciamo il consorzio cerca in qualche modo di rispondere a questi cambiamenti in atto perché di fronte a questi cambiamenti l'unica soluzione che abbiamo è quella di avere una risoluzione resiliente per utilizzare questa risorsa che è importante in modo efficiente e consapevole allora vi presento anch'io la nostra struttura il consorzio di bonifica porta un servizio riguo ad una superficie piuttosto ampia che è quella che vedete nell'immagine ha circa 1300 km di condotta in pressione 1500 km di canali e canalette che sul vostro territorio vedete quotidianamente una novantina di pozzi che prelevano da falda freatica e alcune derivazioni superficiali tutta una serie di stazioni di pompaggio che forniscono l'irrigazione in pressione in viola vedete appunto le superfici che sono irrigate per aspersione sono circa 20.000 ettari su tutto il territorio a scorrimento in verde rimangono invece circa 13.000 ettari il resto è un tipo di irrigazione quella di soccorso che si fa da canali naturali da canali di bonifica che in genere riguarda prevalentemente la bassa pianula frullana le derivazioni principali che gestisce il consorzio sono sicuramente il sistema lega tagliamento con la presa di ospedaletto dal quale si derivano mediamente 20 metri cubi al secondo portata che viene integrata poi al nodo idraulico di Andraluzza con una derivazione sul fiume l'edra con circa 5,50 metri cubi al secondo la derivazione il sistema lega tagliamento è un sistema molto antico risale a fine a metà dell'Ottocento una prima schematizzazione vedete è questa del 1858 e quella che vedete rappresentata in questa immagine è la superficie rispetto a quella consortile totale che viene irrigata con questo sistema questa è l'area in cui ci troviamo nel gemonese tra gemone e osopo abbiamo circa 2000 ettari irrigati a sconimento per 13 cubizi che sono le unità irrigue che vengono alimentate direttamente dai canali principali ci sono delle altre prese ovviamente sul territorio molto grandi e molto importanti una sempre lungo il fiume Tagliamento in località Onedis che con 2,5 metri al secondo alimenta la roggia di Carpaco Codroipo e poi il più antico sistema di derivazione che è quello sul fiume Torre in località Zompitta che con 3 metri cubi al secondo alimenta tutto il sistema roiale delle rogge di Udine di Palma e della rogge Cividina di questo sistema si ha traccia storica a partire dal 1100 più o meno quindi con il patriarcato e il sistema di irrigazione di distribuzione irrigua che viene fornito dal consorzio si basa sia su un sistema di canaletti a cielo aperto con infiltrazioni laterali che permette appunto di attuare un'irrigazione a scorrimento diretto sul terreno oppure un sistema di irrigazione per aspersione che permette di fare irrigazione a goccia oppure tramite sistema con ali mobili questo diciamo è il servizio che in generale in senso generale viene fornito dal consorzio ma il consorzio non può esimersi da guardare quello che succede sul territorio perché deve dare appunto una risposta e un tipo di servizio che sia commisurato a quelle che sono le esigenze delle persone e degli agricoltori ma anche dell'ambiente e quindi di conseguenza non può è in qualche modo influenzato nel suo agire da quello che sono i cambiamenti climatici cambiamenti climatici che non devono essere confusi con quelli che sono i cambiamenti meteorologici cioè il meteo è una condizione particolare quella che vediamo oggi oggi c'è stato un cambiamento meteorologico rispetto alla giornata di ieri il cambiamento climatico invece è qualcosa di più radicato perché raccoglie in sé una media di condizioni meteo che si protraggono nel tempo e che perdurano nel tempo e che diventano non più un semplice cambiamento temporaneo ma che si radica sul territorio quindi quello che stiamo facendo in questo periodo è fare un'analisi di quelle che sono le condizioni meteorologiche raccogliere dati il più possibile attendibili e monitorare quindi il territorio per verificare che quello che è l'andamento climatico non si tramuti in un cambiamento climatico ovviamente questo possiamo dire siamo un po' in ritardo nel senso che ormai i cambiamenti climatici adesso vi farò vedere alcuni dati sono già in parte intercorsi però una risposta resiliente riusciamo a darle riusciamo e diciamo prospettive future ce ne sono però bisogna collaborare e fare in modo che tutti quanti gli enti gestori e la comunità sia cosciente e collabori appunto in un'unica direzione i cambiamenti climatici nato sul nostro territorio riguardano sia le temperature con una temperatura media che si sta alzando e che non è più un'annata calda ma come potete vedere negli ultimi cento anni rispetto a quella che è la media di 13 gradi annui si sta alzando e questo scostamento come potete vedere non è un semplice trend ma si sta attestando quindi sta diventando questo aumento di un grado sta diventando un vero e proprio cambiamento climatico e cambiamento climatico che praticamente sentiamo sulla nostra pelle ogni giorno se definiamo come un giorno caldo una giornata calda quella che ha una temperatura massima superiore ai 30 gradi in frio e in venenza giulia vedete che nel 2019 abbiamo avuto circa 60 giorni con temperatura superiore ai 30 gradi negli anni 90 e parliamo quindi non più di 30 anni fa c'erano 25-30 giorni per non parlare delle notti calde e notte calde vuol dire con una temperatura superiore ai 20 gradi 2019 20 notte negli anni 90 circa 5 e sono quelle nottate in cui non si riesce a dormire se non si accende il condizionatore e purtroppo sono all'ordine del giorno per quanto riguarda invece le precipitazioni come già qualcuno anticipava se noi andiamo a analizzare le cumulate vedete rimangono comunque sull'anno rimangono comunque entro un certo range tra i 2000 e i 1000 millimetri e quindi apparentemente sembra che il cambiamento climatico dal punto di vista delle precipitazioni non sia in atto in realtà quello che si di cui riusciamo ad accorgerci anche grazie appunto alla raccolta dei dati e grazie anche alla collaborazione tra regione protezione civile consorzio in realtà è come quest'acqua che a livello accumulato rimane dentro un certo range come quest'acqua si distribuisce durante l'anno come potete vedere diciamo dagli anni 60 fine anni 90 in blu e in rosso dagli anni 90 agli anni 2000 mettiamo gli ultimi 30 anni vedete come le precipitazioni medie mensile siano aumentate notevolmente nel periodo autunnale e come invece si siano ridotte nel periodo invernale invernale inizio primavera notevole è la differenza che c'è nel periodo di giugno che è quella che stiamo assistendo abbiamo raccolto e messo insieme un po' di dati e questo è uno studio che avevo fatto per la giornata mondiale per l'ambiente dell'anno scorso per le scuole in realtà e l'avevo utilizzato per far vedere come a fronte di diciamo una quantità di giornate piovose simili 10 7 8 giorni la quantità di acqua che in realtà si raccoglie che cade è notevolmente cambiata se a maggio abbiamo 10 giornate piovose con 90 mm di acqua a luglio 7 giornate piovose con 50 mm di acqua a novembre ce n'è il triplo vedete come si è spostato a parità di tanti giorni di pioggia abbiamo notevole accumulate diverse abbiamo una distribuzione diversa e diciamo i cambiamenti climatici ai quali abbiamo assistito negli ultimi 60 anni nella nostra regione sono perfettamente coerenti con quelli che si assistono nella macro regione la quale ricadiamo cioè la regione mediterranea e quali sono le conseguenze e gli impatti sono gli stessi abbiamo visto l'aumento evidente delle temperature e con un aumento dei giorni caldi e delle notti calde e un meno forse evidente aumento di quelle che sono le piogge accumulate però una riduzione significativa con un trend statistico significativo delle precipitazioni invernali ed estive e un aumento un po' meno evidente di quelle che sono autunnali e invernali questo cosa comporta che temperature più alte e variazione della distribuzione delle precipitazioni nelle varie stagioni ci porta a un maggiore contenuto di energia e di vapore e acqueo in atmosfera vuole dirlo ma la bellissima nemicata che abbiamo visto nel 2020 in montagna in realtà non sono il ritorno a vecchio inverni come i vecchi inverni degli anni passati in realtà sono proprio conseguenza di questo cioè tanta acqua si accumula durante l'estate e vapore acqueo ed energia all'interno dell'atmosfera tante sono le precipitazioni abbondanti che in inverno diventano carattere nervoso però il problema è lo stesso identico si intensifica il ciclo idrologico aumenta l'intensità delle precipitazioni e per noi del consorzio aumenta la siccità alle ondate di calore cosa significa cosa intendo dire quando dico per noi del consorzio per noi che dobbiamo fornire un sistema di irrigazione e avere questi cambiamenti climatici è importante è un problema diventa una criticità perché a temperature più alte medie più alte si hanno variazioni di quelle che sono le lunghezze annuali e medie dei cicli vegetativi e quindi ci troviamo di fronte agricoltori che lamentano germogliamenti nel periodo di febbraio fioriture nei mesi di aprile e con tutta una serie di problemi che sono legati ad una stagionalità che non è stabile per cui durante il periodo di febbraio ci possono ancora essere le ghiacciate quindi i germogli possono andare persi durante i periodi primaveri e tipo in aprile possono esserci delle tempeste che rovinano tutte le fioriture e il consorzio come reagisce reagisce cercando di dare dei servizi che possono in qualche modo sopperire a questa problematica uno di questi servizi laddove c'è la irrigazione per aspersione ad esempio è il servizio antibrina irriga tra virgolette il campo in modo tale o comunque il campo di frutta e la patina di acqua che si porta sopra il germoglio in qualche modo lo protegge dalla ghiacciata e quindi di conseguenza il prodotto è protetto questo cosa implica implica che ci sia un monitoraggio costante sul territorio e anche un potere predittivo su quello che potrà succedere bisogna sapere preventivamente che arriverà la ghiacciata di notte e quindi il sistema di monitoraggio diventa fondamentale le precipitazioni vale la stessa identica cosa se noi andiamo a vedere ho escluso l'anno 2014 perché è stato un anno molto particolare però se noi andiamo a vedere le precipitazioni cumulate nelle annate negli ultimi cinque anni sono queste e queste sono da 2003 a 2016 vedete le cumulate sembrano non particolarmente diverse però se andiamo a prendere il mese di luglio e agosto abbiamo una differenza di 22 e 36 millimetri che cosa vuol dire vuol dire che questo meno 58 totale che abbiamo qui in qualche modo il consorzio deve portarlo perché è un deficit senza una quantità di acqua senza la quale l'agricoltura non ce la fa e come sta andando l'annata di quest'anno innanzitutto l'inverno ho preso delle misure fatte in Emonzo Gemona e poi Udine Cervignano allora vedete da dicembre a marzo abbiamo delle cumulate abbiamo in questi tre mesi meno di 200 millimetri 300 millimetri a Gemona qualcosa in meno nella bassa se andiamo a vedere dal 94 al 2021 le cumulate a Emonzo sono 444 millimetri 517 e così vedete c'è una perdita di circa il 50% che è costante su tutto il territorio cioè non è in una zona piuttosto che in un'altra e aprile e maggio non è meglio anzi torniamo un attimo indietro se a marzo non avesse piovuto il 30 al 31 qui non avremmo avuto neanche 13 millimetri di piva già quindi questi sono dei dati significativi ecco aprile e maggio non sta andando e anzi non è andata meglio anche in questo caso sommando quindi ai 4 mesi precedenti aprile e maggio vedete si ribadisce questo problema del 50% in meno con picchi in marzo appunto dell'87% e in maggio del 70% qualche pioggia in più abbiamo avuto ad aprile ma poca roba stessa situazione particolarmente critica viene fotografata dall'autorità di distretto che in qualche modo ci segue e segue l'andamento di quelle che sono diciamo le caratteristiche delle risorse tagliamento esonzo sul nostro territorio e anche qua vedete utilizzano un indice che si chiama SPI e questo indice misura che cosa il surplus o il deficit di piogge di precipitazione nelle aree e tanto più negativo è questo valore tanto peggiore è la situazione noi siamo in quest'area qui dove è molto minore di meno 2 e quindi siamo in una delle aree più critiche sul fiume tagliamento che è quindi una delle risorse principali dal quale noi attingiamo l'acqua per l'irrigazione la situazione oggi forse è un po' in miglioramento però fino alla settimana scorsa era abbastanza critica vedete il trend allora queste sono non si vede benissimo però insomma queste sono le precipitazioni registrate in Monzo a partire da dicembre qui è novembre vedete che sono via via stanno decrescendo le precipitazioni ma soprattutto la frequenza con cui si verificano si è decisamente ridotta questo trend si ripercuote anche su quello che sono le portate nel tagliamento vedete qua si vede meglio vedete questi sono i picchi di piena in genere conseguenti e successivi a quelle che sono le precipitazioni l'ultima morbida del tagliamento si è verificata il 7 di gennaio le successive precipitazioni per quanto abbondanti non hanno provocato la stesso diciamo recupero di portata sul tagliamento situazione simile la possiamo l'abbiamo registrata e l'abbiamo la conosciamo sui bacini che sono i bacini di invaso che sono nel bacino imbrifero del tagliamento uno di questi è il Lumiei a Sauris questo bacino invasa ha un volume utile di regolazione di circa 65 milioni di metri cubi di acqua al 6 giugno l'invaso aveva circa 27 milioni di metri cubi è praticamente la metà questo cosa vuol dire? questa qui è la nostra parte della nostra risorsa non del consorzio ma intendo della regione e vedete anche qui ci attestiamo sempre sotto questa che è la linea gialla che è la media e siamo sempre questa è la quantità di acqua questo è il minimo dal 2013 al 2021 questo è il massimo e Ambiesta adesso e Lumiei in questo periodo si trova qui vedete siamo qua sono 67 qua sono 27 più o meno 20-27 qua siamo a 27 l'andamento delle falde purtroppo non è meglio mi scuso per il fatto che non sono riuscita ad inserire i dati ho lasciato le ho scritte a mano prendiamo un pozzo questi sono pozzi della regione che noi monitoriamo in collaborazione è un pozzo appunto che si trova nella zona di Remanzacco anche in questo caso vedete da gennaio febbraio marzo aprile il trend di quest'anno è in rapida discesa vedete come le piogge in genere queste sono il 2021 in genere aiutano le falde perché diciamo danno quella ricarica che poi permette di resistere a quello che è un naturale andamento medio invernale che è di decrescita della falda ma quello che fa impressione da questo punto di vista è come la pendenza di questa retta come pian piano questa falda si svuota si sta svuotando in maniera molto più rapida e con le misure di giugno sono uscita dal grafico siamo a meno 69,2 metri rispetto a un giugno questo è stato particolare però in genere si attesta intorno ai 60 siamo quasi 10 metri più sotto stessa cosa a Sedellano vedete qui è ancora più evidente il trend la rapidità con cui sta scendendo la falda in questo caso il pozzo a giugno è asciutto da qui non si preleva più niente e privano nella zona diciamo più a est anche in questo caso vedete la retta scende decisamente più rapidamente rispetto a quella che è la media anche qua parliamo di un paio di metri sotto rispetto al livello normale in zone in cui non c'è mai stato questo problema è la prima volta che registriamo così tante cali drastici qui a Gemono Zoppo il calo è un po' diciamo meno evidente ma comunque rimaniamo sotto quelli che sono i livelli medi della falda nel periodo sotto di 50 cm abbondanti e nel mese da maggio a giugno siamo calati già di 25 cm nel giro di un mese in una zona dove le piogge non mancano in genere e dove questi cali non sono così normali ecco e questo cosa comporta? comporta una maggiore attenzione su quella che è appunto l'utilizzo della risorsa un'attenzione sull'utilizzo della risorsa che come diceva l'ingegner Goi non è soltanto legato alla quantità di acqua che bisogna risparmiare ma anche la qualità dell'acqua perché quello che dobbiamo preservare è anche l'ambiente all'interno del quale quest'acqua si muove è per questo che il piano di tutela delle acque della regione ha introdotto dei parametri che in qualche modo regolano l'attività di utilizzo dell'acqua in particolar modo le derivazioni con delle portate del flusso ecologico e del flusso minimo vitale che devono essere garantite lunghi corsi d'acqua principali e in particolar modo sul tagliamento affinché con il flusso ecologico l'ecosistema acquatico venga preservato e con il flusso minimo vitale venga preservata appunto la struttura naturale del corso d'acqua nel tagliamento ovviamente questa problematica è molto sentita perché il tagliamento è un ecosistema molto delicato e tra l'altro è unico nel suo essere in Italia ed è studiato a livello europeo perché è veramente una realtà fluviale molto particolare e per questo diciamo che i modelli che vengono applicati per il calcolo del flusso minimo vitale e il modello ecologico in un certo senso non si adattano perfettamente a quello che è il tagliamento e la risorsa idrica che sopporta per questo motivo il consorzio nel 2020 autorizzato dalla regione ha iniziato a una sperimentazione una sperimentazione che appunto ha l'obiettivo di andare a definire quello che è il flusso minimo vitale particolare per il tagliamento che cosa è stata fatta praticamente è stata fatta sono state create e sono stati pensati una serie di scenari di prelievo e quindi di utilizzo della risorsa scenari che si distribuiscono con una serie di fasi critiche normali che sono dettate dalla portata che viene misurata sul tagliamento in funzione di questa portata e quindi della fase in cui ci si trova il consorzio e del mese dell'anno il consorzio regola la derivazione e questa regolazione è legata proprio alla necessità di lasciare un deflussimo minimo vitale che preservi l'ecosistema perché ricordiamo a valle della presa di ospedaletto ma voi lo saprete sicuramente c'è un SIC che è un area appunto di interesse collettivo un sito di interesse comunitario scusate ma non solo questo minimo deflusso vitale questi quattro diciamo metri cubi e secondo sono necessari anche per sostenere quelle che sono i pozzi che vengono utilizzati a livello potabile nella zona del gemonese quindi quest'acqua è necessaria questi quattro metri cubi e secondo sono imprescindibili però imprescindibile anche è l'irrigazione e la quantità di acqua che noi preleviamo per poterla dare per l'irrigazione perché l'agricoltura è una dei principali attività di sostentamento della regione giusto per darvi due numeri la settimana scorsa eravamo in una fase quasi super critica tant'è che non riuscivamo a prelevare più di 15 metri cubi al secondo quindi oggi giorno oggi in questi giorni si sta leggermente risollevando siamo ancora intorno ai 16-17 capite che questa quantità di acqua è una quantità di acqua che in genere noi diamo nel periodo di gennaio febbraio non sicuramente nel periodo di giugno però questa è la portata che abbiamo a disposizione questa è la portata che possiamo dare e che dobbiamo garantire senza però andare a intaccare quello che è l'ecosistema la sperimentazione quindi sta facendo stiamo facendo una serie di monitoraggi dicevo forse alla la dottoressa mi sa no proprio adesso o non mi ricordo a chi che proprio oggi la regione stava facendo delle misure di portata sulla presa di ospedaletto per continuare a monitorare costantemente quella che è la risorsa idrica che abbiamo a disposizione proprio perché c'è una forte preoccupazione quali misure strutturali sta cercando di adottare il consorzio in generale l'obiettivo principale è quello di fare delle riconversioni rigue per passare da quello che è l'irrigazione a scorrimento a un'irrigazione in pressione perché perché con l'irrigazione ad aspersione possiamo ridurre quelli che sono i consumi dell'acqua ad uso irriguo del 50% ma abbiamo anche delle altre migliorie ci permettono appunto di eliminare le condotte le canali a cielo aperto che hanno un impatto paesaggistico piuttosto pesante e quindi di recuperare territorio non solo agricolo ma anche paesaggisticamente parlando gli agricoltori hanno a disposizione dell'acqua in pressione che gli permette anche di differenziare quelle che sono le culture che possono mettere in atto possono mettere culture di pregio possono razionalizzare l'acqua per variare le culture sul proprio appezzamento abbiamo dei minori costi di manutenzione ovviamente e poi possiamo dare dei servizi come ad esempio l'antibrina o la fertilizzazione andando anche a limitare quelli che erano diciamo il rilascio di sostanze nocive di cui ci parlava l'ingegner Goi sul territorio perché ovviamente tramite il controllo che abbiamo con l'irrigazione in pressione possiamo anche controllare effettivamente i rilasci e quello che viene lasciato sul territorio a livello di inquinamento le riconversioni in rigue dal 2006 al 2021 hanno visto un aumento di circa 6.000 ettari di superfici alimentate per aspressione quindi con condotta in pressione ed è solo grazie appunto a queste riconversioni in rigue attuate in questi vent'anni che è stato possibile in qualche modo irrigare nelle stagioni più difficili del 2019 e del 2021 senza avere particolari disagini perché comunque preleviamo sempre qualcosa in meno in genere rispetto a quello che abbiamo in concessione questo prelievo inferiore ci permette di aumentare la superficie che possiamo andare a irrigare anche in periodi di criticità queste sono due diciamo immagini che vi fanno capire come abbiamo aumentato il sistema in pressione e quali sono le altre diciamo misure che possiamo adottare ad esempio quella di andare a ristrutturare ad adeguare la rete di aduzione di distribuzione cosa che viene fatta soprattutto qua nell'area del gemonese dove la riconversione in pressione non è diciamo la soluzione più efficace che si può avere questo a causa di una frequente ventosità dell'area che comporta quindi una riduzione di quella che è l'efficacia dell'irrigazione per aspersione oppure un'altra soluzione che è diciamo più vista in questo periodo è quella di realizzare piccoli invasi soprattutto nelle zone collinari che permettono l'accumulo di acque pioviane nel periodo in cui questa pioggia dovrebbe esserci da poter poi riutilizzare nei periodi siccitosi vi porto due esempi quindi si fanno o delle briglie lungo dei corsi d'acqua che quindi permettono di allagare delle aree ovviamente degli allagamenti controllati e fare delle sorte di piccoli laghetti e in questo modo questi invasi che però possono essere gestiti e regolati quindi svuotati in caso di emergenza in modo rapido permettono in qualche modo di avere un polmone di riserva di acqua piovana e un'altra cosa importante è l'adeguamento e l'amodernamento del sistema di monitoraggio e questo si può attuare con un sistema di telecontrollo in monitoraggio integrato e anche con quella forma di digitalizzazione di cui vi parlava l'ingegner Battiston del servizio perché riuscire a essere pronti sul territorio grazie agli strumenti tecnologici è diciamo una delle soluzioni più immediate e efficaci che possiamo attuare e l'altra sicuramente misura importantissima è quella della divulgazione della sensibilizzazione della comunità perché le persone devono essere consce di quella che è la situazione e in qualche modo essere portate a scegliere le soluzioni più adatte alla condizione che stiamo vivendo in questo momento impiegando in maniera più razionale e precisa e efficiente quella che è la risorsa questo è un esempio diciamo forse eccessivo però un'agricoltura di precisione è un obiettivo che non è impossibile da raggiungere soluzioni misure immediate che stiamo adottando integrazione delle portate da parte di A2A che è l'ente che gestisce i vaccini idroelettrici a monte di ospedaletto già adesso sta rilasciando qualche metro in cubo in più o comunque siamo già sui 6 metri cubi in più che permettono in qualche modo di andare a sopperire la mancanza della portata naturale che c'è sul tagliamento stiamo riducendo la durata dei turni rigui in comprensori Orzano San Giusto sono nella zona orientale perché i pozzi purtroppo non hanno acqua e abbiamo sospeso o stiamo sospendendo quella che è l'irrigazione di soccorso nelle aree servite quindi l'irrigazione che si fa a chiamata e poi riduciamo e mettiamo in asciutta alcuni canali secondari altre misure con queste misure che stiamo adottando riusciamo a recuperare circa un cubo e mezzo due metri cubi al secondo speriamo di non doverne adottare delle ulteriori perché comunque l'evolversi della situazione stiamo vedendo è talmente rapida che non è non si riesce a prevedere ancora bene cosa potremo fare e cosa no però per il momento diciamo le piagge di questi giorni ci stanno facendo tirare un attimo un sospiro di sollievo e speriamo che in qualche modo portino qualche miglioramento in più qualche migliore notizia ecco vi ringrazio per l'attenzione spero di non essere stata tantissimo grazie